In questa partita l'autodromo l'ha fatto in un modo veramente incredibile. Io devo ringraziare il presidente Radaelli, devo ringraziare il direttore generale Zinno, devo ringraziare il presidente Covid Lab Milano, perché l'autodromo non sono messo a disposizione. Questa location che, diciamo, era perfetta per queste quattro giorni di vaccinazione di massa, mi ha fatto molto. Ha voluto proprio che si avesse un'attenzione spasmodica anche al particolare per far sì che tutte le persone, ovvero tante che oggi si presentavano qui, ci trovassero bene, fossero contente. Quindi devo dire che il ringraziamento è assolutamente sentito, perché, ripeto, è stato fatto da loro molto di più di quanto gli era stato richiesto.